Ciao beautine, bentornati in questo nuovo video allora anche oggi vi propongo un look pensato per San Valentino in particolar modo vi propongo questo trucco occhi su tonalità del viola con glitter rosa non è perfetto, ci tengo a precisarlo però mi sono impegnata e spero che comunque vi piaccia nonostante non sia proprio perfetto in particolar modo nell'occhio sinistro per quanto riguarda le labbra ho scelto una proposta nude glossata direi quindi di partire subito con il tutorial e iniziamo come mio solito ad applicare il correttore sotto la valsebra e l'ombretto color carne opaco sotto l'arcata sopraccigliare e nella piega dell'occhio nella piega dell'occhio e all'attaccatura delle ciglia inferiori inizio ad applicare questo ombretto malva intensifico la piega dell'occhio con l'ombretto viola che applico successivamente anche all'attaccatura delle ciglia inferiori nell'angolo iniziale dell'occhio e sotto l'arcata sopraccigliare applico l'illuminante sulla palpebra mobile applico questo primer per glitter e al di sopra ci applico il glitter rosa vado a realizzare la mia solita riga di eyeliner nera nella rima interna inferiore e superiore dell'occhio applico la matita nera che vado a fissare come il mio solito con l'ombretto nero e termino il trucco occhi applicando il mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori dell'occhio per quanto riguarda le labbra le vado inizialmente a contornare e riempire con una matita nude molto molto chiara su tutte le labbra vado poi ad applicare questa tinta nude termino il trucco labbra applicando questo lip gloss nude e questo è il look terminato io spero che questo terzo look ranzato per San Valentino anche se non è perfetto ci tengo a precisarlo vi sia piaciuto ovviamente lasciatemi un like se è così e noi ci rivediamo nel prossimo video ciao beautine